Ciao a tutti ragazzi da TFG On Demand Oggi dobbiamo fare delle ultime armi di Smeraldo Perché devo far vedere una cosa, ma dove la porta? Mi sono perso Ecco, Zrinegan ci ha già sistemato Come vedete, vedete queste robe qui queste C'è caduto un meteorito vicinissimo a casa E ci ha distrutto fortunatamente però La piantagione di grano e non quella di Smeraldo Che è quella là in fondo E è caduta anche da questa parte Aspetta che vi faccio vedere che ci ha distrutto il portale Purtroppo del Paradiso Del Paradiso, beh, sta un attimo a farlo Però è una rottura di palle Comunque adesso non faremo questa Andremo subito ad aprire il vaso di Pandora Prima di dimenticarci, no? Ero, Rinegan E dopo costruiamo le ultime tre armi di Smeraldo Che non le abbiamo fatte Ed sono una figata pazzesca Allora, Rinegan, pronto? Guarda, guarda che sono Oddio, eccoli qua Sono quelli che scambiano questi C'è quello che ha le cose in mano Quello che ha le cose in mano, dov'è? Dove sei? Ah, ok, ti vedo, ti vedo, ti vedo, ti vedo Cos'ha? È quello che ha il bastone Ah, uccidiamo così li prendiamo la staffa Vai, prendi, uccidi, uccidi E non me l'ha data Brutto bastardo di un Enderman schifoso È la capresa, sì, bella Allora, pronto? Uno lo apro io, uno lo apro tu, vai Ah, perché ne facciamo due oggi Sì, perché siamo un po' in ritardo È abbastanza Con i Pandora bossi siamo dimenticati troppe volte Oggi ne apriamo due Allora, vediamo un po' cosa esce da qui Cos'è? Oddio! Oddio! Oh, guanti Oh, bello Bello Come giorno? Come? È giorno? Come giorno? Sì, è stato giorno Ah, è vero, che stupidi Guarda qua, oh, sono forti sti chiotri Ammazzo Sì, fortuna che almeno prendono fuoco Arrivo, arrivo a darti una mano Buona fana Dai, bomb, 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 bomb Eh, perché l'armatura è pesante Guarda qui, si hanno la testa di zucca in faccia E intanto è venuto a notte Che paio di palle o della notte Vabbè, ha androppato qualcosa Sì, mi ha dettivato per i pantaloni in diamante Anche a me ha androppato Tutte armature distrutte, praticamente Oh, guardate ragazzi The Meteor Event S Begun Proprio ora Oddio, perché tutti qua? Com'è? Eh, guardale, guardale che cadono Non tutte esplodono, eh Guarda in alto Guarda in alto Guarda che esplode Questa non esplode Eccola qui, qui è esplosa una Vedete ragazzi Che poi, quindi, possiamo prendere sta roba qui Ma non serve a niente Ah, quelli infuocati non le posso prendere Sì, praticamente mi dà il Meteor Chunk No, questo non me l'ha droppato Però non so cosa serve Non c'è scritto nella NEI Vabbè ragazzi Allora andiamo a dormire Che avremo un'altra Pandora Box Così ci salviamo anche Oh, l'icantropo di fronte a te L'icantropo Guarda Ah sì, è vero Si sta trasformando Con il piccone No, non mi ricordo Era con... Cazzo, è vero Con la roba di rame No, di oro Oro Oddio, oddio Aia, merda Acqua, 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 acqua Porca puttana Ste meteore Oddio, mia Dai, canto Vieni qua Eh, guai Così, è seduto in acqua Si è spento anche lui Dai, Rinegan, ti lascio lì io Fa culo Sì, ma non riesco ad ucciderlo C'è Non riesco ad ucciderlo Gli faccio... Oh, ho ucciso Perfetto Boh, andiamo a dormire Va, per favore Allora, ragazzi Ci siamo Ci siamo dormiti Adesso Adesso lo apri Tu, lo ho aperto io No, qui Vai, vai, vai Vediamo se Rinegan è più fortunato di me Attenzione, attenzione, attenzione Attenzione Cosa esce? Il nulla cosmico Un vaso di Pandora Dove non c'è nulla Interessante In questo vaso di Pandora Rinegan è riuscito ad aprire un vaso di Pandora Dove non c'era niente, ragazzi Incredibile Vuoto Vuoto totale Vabbè, allora Adesso andiamo a fare una cosa Dobbiamo andare nella dimensione dello smeraldo Perché ci sono delle mucche che ci droppano Avete presente i bastoncini di legno Che servono per craftare le spade di normali Ecco, ci dropperanno Solo le mucche di smeraldo Ci dropperanno i bastoncini appunto di smeraldo Quindi adesso andiamo immediatamente Nella dimensione dello smeraldo E fortunatamente abbiamo trovato le mucche Non erano quasi così lontane Comunque, eccole qua, ragazzi Queste sono le mucche di cui vi parlavo Queste mucche di smeraldo Dropperanno Sì, tre e due Ok, ne droppano da uno a cinque a mucca in teoria Dove cazzo è andato? Eccola qua Questa è morta Uccidiamo anche questa Perfetto Questa non mi ha droppato Non me l'ha droppato Tanto mi ha droppato cinque adesso Allora, adesso stiamo lì Scappa la infame Eccone altre due Bastardo Eccolo là Ma anche io voglio Dove sono? Muori Ma fai che lo uccido io La voglio uccidere Uccidi là Dai che voglio E tu hai anche la muretta del doppio drone Esatto Eccolo qua Eccole qua Perfetto Due me ne droppo Che poche Perché sono così sfigato? Allora l'hai buttata giù Grazie E questa è solo bistecca Ma che infame Io ho di mucca e bastarde Beh, deve essere qua in giro Aspettiamo un po' ragazzi Adesso cerchiamo Mucca Allora ragazzi Sono tornato a casa Insieme a Rinneganche Allora Ci sono due serie Eccolo qua Praticamente adesso Diamo craftarci Tre cose Allora Quello che mi avete detto voi Già all'inizio della serie Che è la Che ho letto i commenti ragazzi La staff Emerald staff Praticamente c'è scritto Che lancia delle palle infuocate Che però bisogna stare attenti Perché non è precisa Quindi rischi di tirartela contro Ti succederà sicuramente Allora Quindi fare Solo due bastoncini di legno E il blocco di smeraldo Quindi Andiamo subito qui Prendiamo i nostri blocchi Abbiamo un bordello Blocco di smeraldo E i bastoncini di legno Perfetto Andiamo qui Dove devo mettere il rubino? Il rubino Dite la cassa lì Allora Ok Emerald staff L'ho costruita E fin qua Non ci piove Adesso dobbiamo fare L'emerald bow Quindi Emerald Emerald bow Questo qui Che si fa con tre smeraldi E tre cordicelle Abbiamo tutto Quindi Prendiamo le cordicelle Perfetto E poi devo un attimo Prendere nove diamanti Nove smeraldi Per farlo anche a te Così 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 E così Eccoli qua L'emerald Emerald bow Perfetto Due ne crafto Uno per me Uno per Rinnegan Tieni qua Te lo lancio contro Tieni Grazie 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 E adesso Dobbiamo grazie a fare Le frecce di smeraldo Che sono queste Si fa facendo Usando piume L'emerald rod Che abbiamo trovato prima E la selce Quindi Prendiamo le piume Dovrebbe essere qua In giro Da qualche parte Piume Eccoli qua Solo cinque Non hai piume Tu nella tua Sì sì Tieni Dammi il piume L'ho presa io Bastardo Tieni Tieni Ma la selce Non la polvere da sparo La selce Era qui No Prendi Tu mi hai chiesto Le piume Ecco le piume Ottimo Perfetto Ti do la polvere da sparo Tieni qua Oh anche le selci No le selci ce le ho Non serve Ti entele le selci Allora adesso Prendiamo Allora era da fare Come si facevano Non mi ricordo più Punti di domanda Emerald Road 17 piume Anche tante E Queste E ci da 40 frecce Ragazzi 40 frecce Di smeraldo Quindi adesso Io sai cosa voglio fare oggi Voglio andare a trovare Gli Ender Titan Perché guardate ragazzi Ne ho trovato un altro E sono già a 15 Titan hide Me ne servono Poche di più Così il prossimo video Possiamo craftare L'armatura Dell'Enderman Proprio l'armatura Dell'Endertitan No vieni a dormire Che non vuoi uscire col buio Nonostante Ah ragazzi Rilena Sì ma qui vicino Non è che ci distrugge Rilena ha costruito Il TNT di smeraldo Ma non così vicino Rompilo No Ma è troppo vicino lì Ops L'ho preso io Eeeh Guarda qui Questo cazzo di meteoritio Sì comunque ci sono distrutto Un coso dove ci sono Giorgio e gli altri Ah porca puttana E torna a fare Boh ma ce l'abbiamo già La roccia cucinata Ma che due coglioni Deve hanno costruito Boh ma non lo facciamo vedere ragazzi Facciamo per i cavoli nostri Se no annoiamo tantissimo Allora Dove sei? Qua Ok boom boom Aspetta eh Metti uno solo Vediamo la distruzione che fa Metti qua Appoggia Eeeh Aspetta 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 Ok tu hai il tuo E l'accendino Oh Ma cosa hai fatto? Ma Ma Fa serve L'accendino di smeraldo Eccolo qua ragazzi L'accendino di smeraldo Era nella cassa Come voleva si dimostrare Adesso andiamo a accendere quella cosa Rinegan Ho l'accendino di smeraldo Ok vai Accendo eh E' sparito Ah Eh perché che è Oh bastardo L'enderman Dov'è sparito? Non lo so Non lo vedo Oddio mi è esploso Ah è spredato un po' Era sparito Ma mio dio Fa un bel danno eh Scusa hai un altro Ecco Hai un altro Si ma spera che Voglio uccidere prima l'enderman Quello che mi dava Oddio mi ha toccisità Ti ha piuttato la roba anche? No no Non l'ho ucciso L'ho ucciso Si No Ah si me l'ha data Orgem di nuovo Perfetto Bene bene Non altro comunque di Eh si dai Accendiamo L'accendiamo 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 Vai Ok l'ho acceso L'ho acceso L'ho acceso L'ho acceso L'ho acceso Vediamo un po' Quando l'accendo però Sparisce Esploso 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 Vaca roba Un bel buco Aspetta che andiamo nella Vado in miniera Un attimo Mi teleporto E uso la staffa Per vedere cosa mi da I materiali Speriamo roba bella Speriamo roba Roba bella Roba bella Roba bella Roba bella Bellissima Allora vediamo un po' Questo ferro Pietra rossa Pietra rossa E basta Finito Che schifo Adesso ragazzi Mettiamo giù la roba E andiamo a provare L'arco E l'ender staff L'emerald staff Scusate Per uccidere Gli ender titan Allora ragazzi Siamo teletrasportati Guarda che roba Ci sono due ender titan Nel villaggio Si no si picchiano Con gli ender arcieri Perché? Non lo so Intanto ho solo arco nuovo Ah ma che figata Aspetta lo colpisco anch'io Aspetta Ah spara frecce infuocate Che figo È come avere l'aspetto di fuoco Ma che figata No bello Oddio Sono riuscito a fargli passare la frecce In mezzo alle mappe Devo provare Che figo di arco Sì ma aspetta Che sono io vicino Che mi fai saltare l'altra Ma che figo è sta roba Si scarica lentamente Aspetta Che figata è sta roba Ma si rigenera la vita Quel bastardo Eh io L'ho ucciso L'ho ucciso Dai dai Non lo prendo Non lo prendo io Preso io Dov'è la Tiriamogli freccia manetta Arcieri Arcieri fuoco Fuoco arcieri Guarda come gli tiriamo freccia manetta Muori bastardo Muori 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 E si prende pure le fiammate Quello è il bello Ecco Muerto 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 Uccidiamolo Uccidiamolo Oddio ho tirato un ender staff Hai preso il drop No No Ho troppato nulla Non l'ho fatto Non l'ho fatto Ah no Ho dato Ho dato Me l'ho dato a me Ah boh Eh che cazzo Se no mi incazzo Adesso li tiro BAM Il criminale BAM Ma è mi stranto Oh scusa Ti ho tirato addosso Non volevo Non tirarmi le frecce Guarda che ho C'ho un'arma brutta Ti ho detto anche Attento Ma che figata Ho distruggito tutto il villaggio Perché lo fai Perché sono bastardo Oddio Guarda che buco che ho fatto Rinnegan Dove sei? Ho fatto un buco gigante Sì ma Riccetto dove sei? Ho trovato anche l'endminium christ Sono nel buco sono Ma nel buco C'è un buco enorme C'è un buco enorme Guarda Guarda dove c'è la mappa Tutto pieno di pallini rossi Sono tutti i materiali Che non ho preso Ma che cazzo di figata Ragazzi C'è facilissimo Scavare così No Che storie Comunque quest'arma È troppo OP Dai C'è guarda Guarda il creeper BAM Morti Morti il creeper C'è anche io mi faccio male Io posso tirare le frecce normali Come le frecce normali Non lo so Se puoi tirare le frecce normali Ok se ho tirato una bomba lì BAM Sì mi faccio male Anche da solo Però effettivamente Devo stare molto attento No perché La palla parte Ma ti parte anche addosso Tipo Che è Che è Dove sei Ti vedo Cos'è qua la roba lì Non lo so So cos'è E cos'è quella roba lì in fondo Cos'è Ma so cos'è sai Io no Praticamente ragazzi abbiamo messo un'altra mode Che ci dà un'altra dimensione Quella del deserto egizio tipo E questo I portali non puoi costruirli Ma li devi trovare E quindi noi l'abbiamo appena trovato Quindi mettilo lì Si portale Si portale Deserto 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 Ecco Si si lascia che mi colpisca sto imbecile E dove vai Cioè Come fai ad attivarlo Eh dobbiamo costruire una staffa anche per quello Una staffa che ci permette di attivare il portale Ma porca puttana Vieni qua brutto schifoso Infame Pezzo di merda Oh Lo hai disciottato male proprio Lo hai disciottato male Allora ragazzi Direi che il video Chi? Allora ragazzi Il video finisce qui Mi raccomando Guarda se tanti di me mi piace St'arma qui grazie a me l'ha detta Perché è una roba OP Super OP Tira le palle di magma Tira Mi sembra È tipo avere l'arma che tira il Wither Se non sbaglio Comunque è fighissimo È fighissimo ragazzi Si ma sicuramente E anche l'arco non è male Molto forte Vieni qua un attimo Vieni qua a salutare un instante Dove sei? Ti vedo Arrivo 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 Madonna ma che lontana Ma cos'è? Ma cos'è? Eh eh Non sa che trovo le foto Vabbè andiamo qui un attimo ragazzi Aspetta di finire il video Ammazziamo sto imbecillo Guarda quanti spongi sono? Tre ce ne erano Aspetta un attimo Apriamo sta casca E' vuota E qua c'è Oddio Moss Shop Pandora No 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 Dobbiamo far vedere ragazzi Il prossimo video sta roba Abbiamo preso un'arma Uno spara cespugli Vabbè È anche un Pandora Box È anche un Pandora Box Vabbè Esci 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 da sto bar Allora ragazzi Sono uscito dal castello Io direi che il video può finire qua Se vi è piaciuto Lasciate tanti bei mi piace Mi raccomando Lenderstaff è una cosa orribile Oscena Ciao a tutti Al prossimo video Al prossimo video Ciao a tutti